Grazie e buonasera. Gentili ospiti, autorità, cari colleghi imprenditori, benvenuti alla nostra assemblea pubblica. Vi ringrazio per la grande partecipazione e sono felice di vedere una sala così gremita e di condividere con tutti voi questo importante momento della nostra associazione. Nell'arco di un anno molte cose sono cambiate e mai come in questo periodo storico stiamo affrontando dei cambiamenti profondi che incidono su ogni ambito della nostra vita, in casa, in azienda, nelle società e nel mondo del lavoro. A maggior ragione il nostro ruolo diventa sempre più centrale, radicato e articolato per riuscire a incidere sulla trasformazione in atto, per supportare le imprese, per essere un punto di riferimento per il territorio nella visione di futuro e nello sviluppo di nuove iniziative. Ecco perché abbiamo scelto di dedicare la nostra assemblea alle persone, perché sono al centro di ogni comunità, di ogni paese e di ogni azienda, perché sono protagoniste di ogni storia. Dalle scelte degli individui dipende il futuro personale, ma anche quello di un'azienda, di un territorio e di un paese. Essere classe dirigente, noi lo siamo, non è un privilegio, ma è una responsabilità nei confronti dei giovani e del paese. Essere classe dirigente, essere classe imprenditoriale, significa essere consapevoli di avere una responsabilità sociale nelle scelte che si fanno, nelle azioni che mettiamo in campo tutti i giorni, nelle strategie che adottiamo. Qualche volta significa anche fare delle scelte che nel breve periodo possono non sembrare esattamente nel nostro interesse specifico, che ci costano sacrificio e che sono fatte a beneficio del benessere comune e della crescita di un territorio. Non è buonismo e nemmeno filantropia, perché vivere in un territorio che si sviluppa, che genera e attrae talenti, conviene a tutti, anche a noi. In una parola sola, essere socialmente responsabili conviene. L'incertezza è l'elemento che domina in modo assoluto ogni scenario della congiuntura economica. A livello nazionale, il Centro Studi Confindustria rivela che nel secondo trimestre 2022 le prospettive per l'Italia restano complicate, dopo lo 0,2% in meno del PIL nel primo, per questo principalmente per proseguire del conflitto in Ucraina. I dati in aprile e maggio confermano il sommarsi di rincari delle commodity, scarsità di materiali, alta incertezza. Il lento affievolirsi dei contagi, invece, potrebbe sostenere i consumi. Nel complesso, però, l'andamento appare ancora negativo. L'esponenziale l'aumento dei prezzi continua dunque a colpire in modo trasversale ogni settore e commodity, a partire dalla crisi energetica aggravata dalla guerra in Ucraina. Un eventuale blocco delle importazioni di gas naturale dalla Russia, principale fornitore dell'Italia negli ultimi anni, potrebbe avere un effetto molto forte sull'economia italiana già indebolita. In questo caso, l'impatto totale sul PIL in Italia nell'orizzonte 2022-2023 è stimabile in quasi un meno 2% in media all'anno. Purtroppo stiamo scontando la totale assenza di una politica energetica strutturata e strutturale, paghiamo delle scelte non fatte in passato. Recuperare la situazione ora è difficile e certamente di non immediata attuazione. Lo sviluppo economico necessita di energia abbondante, sicura e a buon mercato. La situazione attuale ha analogie con gli shock petroliferi degli anni 70 che misero fine al boom economico degli anni 60. Non possiamo più permetterci di fermare il nostro sviluppo. È necessario perseguire politiche di efficienza energetica a supporto delle fonti rinnovabili, ma dobbiamo essere consapevoli che la transizione energetica non potrà avvenire in tempi brevi. L'Europa unita deve adottare misure incisive a tutela degli Stati membri, delle famiglie e delle imprese, diversificando le forniture e ripensando una politica energetica comune. Tornando ai dati, a livello regionale, nel primo trimestre del 2022 si scontano le stesse difficoltà rilevate negli ultimi tre mesi del 2021. Pur con dati ancora positivi, la forte ripresa che ha caratterizzato la prima parte dello scorso anno si è parzialmente indebolita, a causa della scarsità di alcune materie prime e semilavorati e delle conseguenti difficoltà di approvvigionamento per molti settori, unitamente al rincaro dei trasporti e ai costi dell'energia. A questo quadro si è aggiunta da fine febbraio la precarietà del contesto internazionale a seguito del conflitto tra Russia e Ucraina. I dati sulla produzione industriale restano comunque in positivo nelle quattro province dell'Alto Piemonte, che si collocano, con la sola eccezione della provincia di Vercelli, al di sopra della media regionale piemontese, attestata al più 5,2% rispetto al primo trimestre, al corrispondente trimestre del 2021. Nei primi tre mesi del 2022 si registra inoltre la crescita delle esportazioni piemontesi, che ha raggiunto riguardato la totalità dei settori di specializzazioni, seppure con intensità diverse. A livello locale Biella, con un dato del più 8% sul fronte della produzione, segna il miglior risultato a livello piemontese, con una crescita del più 9,9% in termine di fatturato per i primi tre mesi dell'anno. Si rafforza così il trend di crescita del quarto trimestre 2021, che rilevava rispettivamente più 15,3% per la produzione industriale e più 22,3% per il fatturato. Per quanto riguarda l'export, inoltre, nei primi tre mesi del 2022 Biella registra il dato migliore rispetto alle altre province piemontesi, segnando una crescita del 38,3% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Va però precisato che registrava ancora una forte flessione nel primo trimestre del 2021 e segnava un meno 19,6%. È il tessile abbigliamento, comparto di primaria importanza non solo per il biellese, a mostrare in effetti i segnali più incoraggianti, che devono però essere letti nel confronto con un 2020 di forte sofferenza per il sistema moda. Aggiungo che il problema più grande è che al di là dei volumi non ci sono i margini, si stanno riducendo i margini. Le aziende per la maggior parte non guadagnano, quindi risulta difficile investire, pur nella lungimiranza imprenditoriale. Dopo aver tracciato il quadro dei dati che fotografa una situazione particolarmente complessa, passiamo ora alle azioni che abbiamo scelto di mettere in campo. Come dicevo poc'anzi, il ruolo della nostra associazione è un ruolo di responsabilità anche nei confronti del territorio e degli stakeholder. La responsabilità sociale d'impresa per chi come noi la rappresenta si estrisica anche nell'immaginare un futuro sostenibile per le persone che abitano e lavorano in un territorio. Significa creare le condizioni perché questo avvenga. Noi lo facciamo con i principali attori locali, confrontandoci con loro e stringendo alleanze con partner che condividano la nostra visione e la nostra dedizione, come è accaduto e accade nei confronti della Fondazione Cassa Risparmio di Biella. Ecco qualche esempio. Il biellese si è candidato ad ospitare il primo recycling hub italiano, con un protocollo firmato nelle scorse settimane da parte dei principali stakeholder del settore in primis Unione Industriale Biellese, sotto la regia dell'assessore Elena Chiorino che ringrazio. Si tratta di un ecosistema industriale progettato sotto forma di centro di coordinamento e adibito alla gestione integrale di numerosi e diversificati flussi di rifiuti tessili. Oltre alla fornitura di servizi e soluzioni tecnologiche avanzate in funzione dei fabbisogni e delle esigenze delle aziende del settore, è un progetto ambizioso che soprattutto in questo momento punta sull'economia circolare come elemento strategico che valorizza la materia prima-seconda. È anche un modo per reinterpretare il modello industriale del settore tessile, investendo su nuove tecnologie e competenze da sviluppare per affiancare a tradizione e qualità, innovazione e sostenibilità. A questo proposito, nei giorni scorsi, Ermanno Rondi, pass pressi nell'Unione Industriale e delegato di Confindustria Piemonte al Capitale Umano, è intervenuto sul giornale locale Eco di Biella citando il Recycling Hub sul territorio come esempio dell'opportunità di trasformazione che il biellese può e deve cogliere. Una trasformazione che riguarda il modello produttivo dalla fabbrica tradizionale fordista, basata su una logica lineare push, che spinge il flusso produttivo dalle materie prime al prodotto finito, alla fabbrica on demand, che invece adotta un modello pull su commessa in cui l'esecuzione è tirata e pianificata a partire da ogni singolo ordine. È un cambiamento prima di tutto culturale, di mentalità e metodo di lavoro per generare nuovi flussi operativi e una gestione della produzione più semplice, ed efficace. Condivido dunque le parole di Ermanno Rondi. Un dibattito serio e profondo sulle caratteristiche e sui percorsi di fattibilità per realizzare una fabbrica smart di mercato non è solo possibile, ma è doveroso per questo territorio. Un'altra iniziativa condivisa e straordinaria che potrà incidere profondamente sullo sviluppo locale è la convenzione ventennale con l'Università degli Studi di Torino. Un passo avanti incredibile che, come spiegherò fra poco, vede Biella come modello di un nuovo modo di pensare alla formazione universitaria, grazie a percorsi specifici e unici realizzati insieme agli stakeholder locali. Inoltre abbiamo siglato un accordo con LNX in collaborazione con Città dell'Arte, Fondazione Pistoletto e Fondazione Biellezza, che promuove lo sviluppo delle comunità energetiche sul territorio e che punta ad avviare un confronto sulla transizione energetica e sulla sostenibilità, con particolare riferimento all'economia circolare a livello comunale e provinciale. Sempre in tema di energia, di cui ho già parlato all'inizio del mio intervento, va considerato che l'acquirsi della crisi energetica, con i forti rincari delle bollette di gas e luce, ha fatto emergere la fragilità da parte di chi, pur avendo un impiego, ha iniziato ad avere difficoltà economiche. Con la Fondazione Cassa Risparmio di Biella ci siamo impegnati ad intervenire su questa specifica fascia di popolazione con l'intervento SOS bollette. Sono stati erogati bonus bollette a quasi 600 famiglie che sono state anche supportate attraverso incontri specifici di formazione per sapersi orientare nel libero mercato delle forniture energetiche ed essere sensibilizzate in generale sul risparmio energetico. Continuando a parlare di benessere e salute, non possiamo dimenticare il nostro ospedale di Biella, un punto di riferimento che potrà crescere e svilupparsi ulteriormente grazie al progetto di clinicizzazione universitaria di cui siamo convinti sostenitori. Più in generale prosegue la nostra azione per diffondere e sensibilizzare le aziende all'utilizzo del welfare aziendale come opportunità per riuscire a dare qualcosa di più ai propri collaboratori al di là della busta paga. Mi riferisco anche all'osservatorio permanente dei bisogni territoriali del biellese, costruito con la Fondazione Cassa e Risparmio di Biella, che ha l'obiettivo di monitorare la situazione e fornire indicazioni per la progettazione di nuove iniziative di welfare territoriale. Il welfare è dunque un'opportunità preziosa sia per le imprese che per le persone, ma dobbiamo essere chiari da solo, non è sufficiente. Serve un intervento urgente per aumentare il potere di acquisto delle persone, eroso in maniera preoccupante dall'aumento del costo della vita e dalla inflazione. Bisogna intervenire rapidamente ed efficacemente, senza però appesantire ulteriormente gli oneri a carico delle imprese, già fortemente sotto pressione a causa della congiuntura economica e degli aumenti di prezzi che a loro volta subiscono. Il lavoro è un investimento e un costo su cui incide moltissimo la pressione fiscale e contributiva che è tra le più alte d'Europa. Della cifra che un'azienda da stanzia per lo stipendio di un suo dipendente appena la metà finisce nelle tasche dei lavoratori. Questa è la variabile su cui è doveroso intervenire, ridurre il cuneo fiscale, come da tempo sostiene Confindustria e come recentemente ha ribadito ancora il Presidente Carlo Bonomi. Noi, afferma Bonomi, abbiamo fatto una proposta dettagliata. Si tratta del taglio del cuneo fiscale sul lavoro da 16 miliardi, concentrato sui redditi al di sotto dei 35 mila euro. Il salario minimo va bene, ha spiegato Bonomi, ma solo per i lavoratori più fragili e non è il caso dei contratti nazionali firmati da Confindustria. Occorrono dunque interventi strutturali, non una tantum, che possono gettare basi più solide perché le persone possano immaginare un futuro meno incerto. L'incertezza infatti è il primo nemico da sconfiggere affinché l'economia possa ripartire. Il lavoro non è solo un costo, come accennavo prima, è anche e soprattutto un investimento che come imprenditori poniamo al centro delle nostre imprese ed è un valore che cerchiamo di promuovere a livello culturale in modo diffuso a partire dalle nuove generazioni. Come imprenditori abbiamo il dovere di essere i primi a metterci in discussione e di riuscire a trovare un modo nuovo di dialogare con chi vogliamo attrarre sul territorio perché lavori nelle nostre aziende. I giovani scelgono la loro carriera e scegliere significa anche eliminare. Spesso cioè eliminano, sono le opportunità di lavorare nelle fabbriche, nelle manifatture e spesso, scusate, ciò che eliminano sono le opportunità di lavorare nelle fabbriche, nelle manifatture e nelle industrie. Tutti termini che hanno un significato importante e positivo che purtroppo è stato distorto negli anni da forti pregiudizi anti-industriali. Dobbiamo riuscire a valorizzarli nuovamente raccontando la nostra realtà manifatturiera, un tessuto fatto di eccellenze piccole e grandi. Non a caso oggi premiremo con uno speciale riconoscimento una delle punte di diamante del nostro distretto, alfiere della nostra eccellenza riconosciuta nel mondo, qualcuno che ha saputo garantire la sostenibilità e lo sviluppo dell'azienda nel futuro. Mi riferisco al gruppo Zegna e ne approfitto per salutare il dottor Gildo e il dottor Paolo Zegna che sono qui tra noi. Per diffondere i valori della cultura d'impresa da tempo con il gruppo Giovani Imprenditori portiamo avanti numerose iniziative che promuovono il dialogo tra impresa e scuola e aprono le porte delle nostre aziende ai ragazzi, così toccando con mano scoprono realtà per loro nuove e spesso affascinanti. Un ottimo esempio in questo senso è il BeFool Tech Edition, il progetto che si è concluso recentemente con la vittoria di un team di studenti che è stato capace di ideare un innovativo sistema per l'agricoltura 4.0. Altre esperienze sono il concorso scuole del premio Biella letteratura industria e il piccole e medie industrie dei organizzato dal comitato piccola industria. Il dialogo con la scuola, un rapporto duraturo e incentrato sul reciproco scambio, ha portato a realizzare sul territorio un articolato sistema di sviluppo delle competenze che va a beneficio del futuro delle persone, delle aziende e di tutto il territorio biellese. Come dicevo prima è davvero importante che Biella abbia una sua università grazie alla convenzione che Città Studi e la Città di Biella e la Fondazione Cassa di Risparmio hanno siglato con l'Università di Torino. Nuovi corsi di studio che partiranno con l'anno accademico 2022-2023, che vengono progettati insieme al territorio e sono espressione anche del suo genius loci. In particolare la strategia di questa convenzione che abbiamo appoggiato con convinzione è quella di avere a Biella dei percorsi universitari che siano unici e non la replica di corsi che esistono già in altri luoghi. Ecco perché come Unione Industriale Biellese abbiamo scelto di investire molto in questo progetto. Per i prossimi vent'anni abbiamo destinato 300.000 euro, cioè 15.000 euro all'anno, per contribuire a finanziare l'Università di Biella e soprattutto per contribuire a costruire lo sviluppo futuro investendo sulle persone. Altri esempi di eccellenza sono l'ITS TAM che esporterà il suo modello vincente anche a Valenza con un nuovo ITS GEM che è il primo ITS del settore a livello nazionale. E l'Accademy Tessile e Green Job nel Biellese promossa dalla Regione Piemonte sul modello biellese volta alla specializzazione sulla sostenibilità per l'industria. Per questo aspetto non posso fare a meno di ringraziare la Regione Piemonte e il suo assessore Elena Chiorino che ha saputo innovare il modo di sostenere la formazione credendoci, ascoltando le esigenze delle imprese e superando le mille incrostazioni burocratiche sedimentate nel corso degli anni. Grazie assessore, però adesso dobbiamo partire. Sui temi dell'education e dell'orientamento molto è stato fatto ma ancora molto è da fare. Questo tipo di azione richiede tempi lunghi e investimenti costanti perché punta ad avviare una trasformazione che valorizzi la cultura industriale e porti le persone a riscoprire l'orgoglio della manifattura, una priorità su cui come unione industriale continueremo a insistere e a investire. Il sistema della formazione locale può inoltre avvantaggiarsi di un humus fertile eccezionale rappresentato dal tessuto manifatturiero presente sul territorio, un esempio unico che racchiude l'intera filiera tessile, unito alla presenza di preziosi punti di riferimento rispetto all'innovazione e alla ricerca. Ciò rappresenta un valore raggiunto molto importante che può rafforzarsi ulteriormente grazie alla collaborazione tra CNR, Stima e Pointex e rapportarsi con la specifica attività dell'Associazione Tessile e Salute a livello nazionale. Inoltre la spinta alla ricerca verso nuove frontiere del settore tessile può trovare altre direttrici di sviluppo che intercercano tecnologia, innovazione, sostenibilità per un nuovo modello di economia circolare nel tessile. Ecco perché, come ho detto prima, il biellese si è candidato per la realizzazione del primo recycling hub italiano. Si tratta di una iniziativa condivisa che poggia su solide basi e che trova nel biellese il candidato ideale perché racchiude tutti i fattori necessari al progetto. L'ho detto alla scorsa assemblea, quella dell'anno scorso e lo ripeto oggi, abbiamo tutte le carte in regola perché questo progetto si possa tradurre in realtà. Ciò che invece purtroppo sembra ancora un sogno irrealizzabile è l'annosa questione delle infrastrutture. Biella è la provincia che sta crescendo di più, lo dicono i numeri che ho citato all'inizio del mio intervento, siamo la provincia che ha raggiunto i risultati migliori in Piemonte rispetto all'aumento della produzione industriale e dell'export e lo ha fatto con la sola forza delle imprese. Nonostante questo, nonostante sia un territorio in ripresa, continua ad essere lasciato solo. Biella infatti è l'unico capoluogo di provincia piemontese che non ha un collegamento ferroviario diretto con Torino e con Milano. Anche nel confronto con altre città che non sono capoluogo, Biella resta una cenerentola. Eppure il territorio unito negli intenti e anche negli investimenti si è profuso in sforzi e risorse per realizzare l'elettrificazione della linea Biella Santia un intervento onoroso ma propedeutico al collegamento diretto sia con Torino che con Milano che però al momento non è ancora garantito. Avere la linea elettrificata ma non avere le corse a mio avviso è paradossale. Doversi accontentare di due corse verso Torino in orari poco utilizzabili da parte di un'utenza che studia o lavora è incredibile. Non poter contare su un servizio basilare e sostenibile come il trasporto su rotaia è inaccettabile. Molte volte con gli altri attori locali abbiamo incontrato i nostri rappresentanti politici a tutti i livelli per chiedere un servizio perlomeno al pari di altre città capoluogo di provincia della regione. Lo abbiamo fatto per anni senza risultati o perlomeno con risultati che giudico insufficienti. Non posso quindi nascondere lo scoramento di chi come l'Unione Industriale Biellese punta a costruire ogni giorno lo sviluppo locale con le proprie forze nonostante la carenza dei collegamenti. I progetti per il futuro sono molti e oggi sto citando solo alcuni esempi eccellenti. Come attrarre giovani studenti da tutto il mondo anche grazie all'Università degli Studi di Torino con sede a Biella, promuovere la crescita dell'industria turistica locale grazie a Biellezza, diventare il primo recycling hub italiano del settore. Per riuscire a realizzare davvero iniziative concrete dunque le idee non mancano, mancano però le persone, le persone che con il loro entusiasmo e la loro competenza si facciano parte attiva per realizzare nel concreto questi progetti, le persone che a ogni livello con entusiasmo si spendano per lo sviluppo locale, le persone che vogliono abitare, investire, studiare sul nostro territorio, le persone che scelgono di lavorare nelle nostre imprese e prima ancora che vogliano intraprendere un percorso di studi che li avvicini alla manifattura. In conclusione, lo sviluppo del nostro territorio è fortemente condizionato, come capita anche altrove, dalla capacità di generare e di attrarre talenti. Non siamo gli unici a porci questo obiettivo, ma sono convinto che la squadra biellese sia compatta nella strategia e nella coerenza delle elezioni. Lo abbiamo dimostrato sempre e lo dimostreremo anche questa volta. Vi ringrazio dell'attenzione.